Sare Pepe è un'azienda che si occupa di gastronomia, di catering, di banketing e abbiamo una divisione che segue tutti i progetti in franchising di apertura dei vari negozi di cui ne vedete un esempio qui. Abbiamo scelto Pepe perché è un sistema innovativo per la gestione di tutta quella che è la posta elettronica ma non solo, anche dei nostri calendari e appuntamenti, soprattutto perché all'interno del nostro ufficio avevamo dei problemi di comunicazione viste le diverse business unit che devono fisiologicamente parlare tra di loro in considerazione del fatto di avere una cucina centralizzata che serve i diversi reparti aziendali. Il cambio è stato pressoché indolore nel senso che abbiamo diviso il passaggio in diversi reparti e comunque siamo stati sempre seguiti e assistiti da loro in ogni singolo passaggio. Oggi non potremo fare a meno, non potremo veramente fare a meno perché il servizio è per noi diventato indispensabile, lo consultiamo da mobile, lo consultiamo sui nostri smartphone, lo consultiamo dovunque ci troviamo ed è diventata un po' la to do list di tutto quello che dobbiamo fare durante la giornata. Di conseguenza ci aiuta a sviluppare il lavoro in maniera precisa e puntuale. Tuepi è consigliabile assolutamente a chiunque abbia una necessità a livello di ufficio di organizzare il lavoro, organizzarlo in maniera precisa e sapendo cosa fa ogni singola persona. Tuepi mi permette di controllare i team anche quando io non sono fisicamente in azienda per vedere se i progetti, le pratiche vengono svolte in maniera corretta e coerente alle direttive aziendali.